In nome di Sua Santità Benedetto XVI, gloriosamente regnante, il Tribunale, invocato alla Santissima Trinità, ha pronunciato la seguente sentenza. Visti gli articoli 402, 403, numero 1, 404, primo comma, numero 1 del Codice Penale, dichiara l'imputato Paolo Gabriele colpevole del delitto previsto dall'articolo 404, primo comma, numero 1 del Codice Penale, per avere egli operato, con abuso della fiducia derivante dalle relazioni di ufficio connesse alla sua prestazione d'opera, la sottrazione di cose che in ragione di tali relazioni erano lasciate o disposte alla fede dello stesso. Lo condanna, pertanto, alla pena di anni 3 di reclusione. Visto l'articolo 26 della legge 21 giugno 69, numero 50, considerate l'assenza di precedenti penali, le risultanze dello Stato di servizio in epoca antecedente ai fatti contestati, il convincimento soggettivo, sia pure erroneo, indicato dall'imputato, quale movente della sua condotta, nonché la dichiarazione circa la sopravvenuta consapevolezza di avere tradito la fiducia del Santo Padre, diminuisce la pena ad anni 1 e mesi 6 di reclusione. condanna il medesimo al rifacimento delle spese processuali. L'udienza è chiusa.